ciao ragazzi ciao ragazze allora come state allora oggi qui c'è una bella giornata di sole è diminuita un po la temperatura però almeno c'è il sole e niente volevo dirvi che il sabato e la domenica c'è uno special event completamente gratuito al quale mi piacerebbe molto che voi partecipaste per scoprire anche una un'ottima opportunità lavorativa per avere un'entrata extra quindi ragazzi io ci tengo davvero tanto che partecipaste a questi eventi perché sono eventi che hanno molto successo ogni settimana siamo in centinaia a collegarci quindi è una cosa che davvero può fare la differenza in questo periodo di crisi lavorativa quindi se siete a casa dal lavoro non sapete cosa fare collegatevi con me e con tutta la nostra community il sabato e la domenica in varie fasce orarie quindi scrivetemi qui sotto quando siete più liberi io vi manderò il link e ci vediamo al webinar special event ciao ciao